È ufficialmente arrivata la primavera al Garden Floridea. Noi abbiamo qui centinaia di piante pronte a colorare la vostra casa, i giardini e i balconi che stiamo vivendo in modo nuovo, sfruttando spazi anche piccoli che sono diventati spazi da vivere e arredare. Un balcone con i vasi giusti e le piante adatte può regalare una vista allegra e colorata. Esistono, pensate, piante che oltre ad essere molto belle ci fanno anche vivere meglio. Mi riferisco alle piante che depurano l'aria. Sono elementi ormai d'arredo immancabili nelle nostre case, come la Sanseveria, lo scenografico filodendro e la splendida zalea. E per chi ama anche le piante curative, l'aloe vera. Sono piante molto belle e alleate per il nostro benessere. Per chi apprezza le piante scenografiche, Floridea ha selezionato le alocasie, i filodendri e le calatee, che sono in grado di trasformare una stanza in un giardino emozionante. Ma le fioriture, che vi suggeriamo di non perdere, anche come idea per la prossima Pasqua, sono delle semplici ma festose margherite, le raffinate camellie e delle coloratissime ortense. Vi ricordiamo che siamo sempre aperti 7 giorni su 7. Potete tranquillamente venire al Garden Floridea, come da ultime disposizioni ministeriali. Mi raccomando, sempre muniti di autocertificazione, con la dicitura, acquisto piante o materiale florovivaistico. Per sapere i nostri orari, consultate il nostro sito internet gardenfloridea.com o i nostri social.